Siccome domani il prefetto verrà in Tassarica in occasione del primo maggio, abbiamo chiesto attraverso la Dicos che il prefetto, così come peraltro ha fatto le altre volte, contatti il governo attraverso, loro parlano chiaramente con il ministero dell'interno in quanto presso, per dire le motivazioni per cui noi oggi stiamo bloccando l'autostrada, il governo non può assumere un atteggiamento di mediatore, ma per noi è il garante dell'accordo, per cui rispetto anche alle dichiarazioni fatte al tavolo, noi pretendiamo che il governo svolga questo ruolo, chiaramente questo messaggio sta arrivando al prefetto che interlocuirà e quindi abbiamo assunto l'impegno anche perché domani verrà fisicamente instabilemento con Cigello e Cislawill per il primo maggio e quindi a fronte di questa disponibilità abbiamo deciso di sgombrare un'altra volta tra le tuele. Grazie per la visione!